Il centro unico di prenotazione dell'asile di Salerno genera solo disservizi, i più penalizzati sono gli anziani. Stanca delle telefonate a vuoto e dei lunghi tempi di attesa al telefono per parlare con un operatore, ha inoltrato una lettera denuncia al presidente della regione Campania e per conoscenza al direttore sanitario dell'ospedale di Sapri. Giuseppina Polito, 83 anni, di Sapri, ha pensato di richiamare l'attenzione del governatore Vincenzo De Luca su quanto accade agli utenti del CUP con l'auspicio di un ritorno al passato per quando riguarda la gestione delle prenotazioni delle visite specialistiche ambulatoriali e degli esami di diagnostica strumentale. Con poche righe Giuseppina illustra gli enormi disagi che bisogna affrontare per una prenotazione al CUP. Dopo anche due ore di attesa al telefono, scrive, si ottiene una risposta spesso senza risultato perché non c'è posto e bisogna tornare a chiamare. Io sono una vedova anziana precisa e come tante altre della mia età dovremo essere assistite e non preoccuparci di come ottenere in breve tempo una prenotazione. La signora di Sapri, che è stata tra le fondatrici del Lavo, assistenza volontari ospedalieri, indica a De Luca anche la soluzione. Sarebbe opportuno, per agevolare anziani e non, eliminare il centro unico di prenotazione e attivare il servizio di prenotazioni presso ciascun distretto sanitario, come avveniva in passato. Gli utenti perderebbero meno tempo al telefono e pazienza. La questione sollevata dalla cittadina saprese al presidente della regione Campania è stata segnalata più volte anche alla nostra redazione. Sarebbe opportuno che le autorità competenti individuino una soluzione che non faccia perdere la pazienza agli utenti.